Tommaso Ulivieri e Silvia Girelli di Arco Bene Comune sono intervenuti in merito alle dimissioni di Stefano Mandelli del CDA di AMSA ad Arco. Un atto di protesta contro il marketing imposto dalla giunta arcense che sarebbe teso, secondo Mandelli, a portare ad Arco il maggior numero di unioni civili tra omosessuali. Una scelta sottoscritta da Civica Trentina Provinciale che ha criticato la giunta arcense perché in questo modo non si tutela la famiglia naturale. Gli esponenti della Civica Trentina, scrivono Ulivieri e Girelli, tentano una rievocazione medioevale ad Arco con tanto di paure e barricate in difesa della famiglia naturale. È evidente, dicono, che il logo di Wedding in Arco segnala anche la possibilità delle unioni civili omosessuali, ma senza dissuadere quelle eterosessuali e con una azzeccata scelta di marketing, concludono. Paolo Borroi, ideatore del logo e di Wedding in Arco, ha fatto alcune considerazioni in merito alle polemiche. Smentisco che sia stato pensato per favorire le unioni civili, ha commentato. Mi ferisce vedere intraprendere delle crociate ideologiche. Da manager di progetto ed esperto di marketing non vi è in questo logo, secondo me, alcun errore. Borroi lo ha analizzato spiegando che i due cuori sovrapposti sono il simbolo distintivo dell'amore platonico. Per quanto riguarda l'uso dei papillon, dice che serviva un simbolo distintivo che donasse eleganza. Grazie.